Salve a tutti, questo sarà un bravissimo video. Volevo solamente ringraziare le persone che hanno fatto parte del mio 2013 e spero che possano fare parte anche del mio 2014. Questo per me è stato un anno di grandi cambiamenti, in cui, come sapete, ho lasciato la mia famiglia e i miei amici per venire qui negli Stati Uniti a vivere questa fantastica esperienza. Volevo ringraziare i miei genitori che mi supportano sempre, e continuano a supportarmi, quindi un bacione, vi voglio bene. Spero che il 2014 possa essere anche per voi un anno fantastico, quindi buone feste e ricordatevi che siamo noi che creiamo il nostro futuro, quindi auguri ancora e un buon 2014 a tutti. Un bacione al prossimo video!